Lo scorso 29 giugno con una coltellata ferì al collo un collega all'interno dell'ufficio manutenzione del comune di Arezzo in via Tagliamento. Una tragedia sfiorata, il fendente inferto infatti solo per pochi centimetri non risultò fatale. Per Giovanni Polucci Sabbioni, operaio comunale di 59 anni, scattarono immediatamente le manette con l'accusa di tentato omicidio e sottoposto a perizia psichiatrica è risultato incapace di intendere e volere al momento del fatto. Adesso è stato fissato per il prossimo 3 novembre il processo all'uomo. Il 59enne attualmente per la sua condizione di salute non si trova in carcere ma in una REMS, ossia una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. Ciò che dovrà essere stabilito alla fine una volta preso atto della non imputabilità del 59enne è la durata della misura di sicurezza. Polucci già nel 1995 aveva aggredito un altro collega sempre con la stessa modalità. Anche in quella circostanza infatti aveva usato una lama. Dopo quel primo tentato omicidio ci fu per l'uomo un verdetto di non punibilità perché totalmente incapace di intendere e volere.